Dai passori tedeschi ai bracchi, dai pincher ai beagle, passando per tantissimi altri amici a quattro zampe, sono stati i cani protagonisti del weekend all'Arezzo Fiere Congressi. Si è svolta infatti sabato 11 e domenica 12 febbraio ad Arezzo l'Esposizione Canina, un evento dedicato al mondo della cinofilia organizzato dall'Associazione Gruppo Cinofilo Aretino. Due giorni di gare tra i cani più belli provenienti dall'Italia e da diversi paesi stranieri. La giuria di esposizione canina ha valutato e scelto il cane vincitore per l'edizione di quest'anno, la dodicesima. Nelle due giornate si sono succeduti 2600 cani scritti, che hanno i loro proprietari, che li accompagnano, chiamati espositori. E in più naturalmente ci sono tanti appassionati che oggi vengono da tutta la Toscana a trovarci per vedere questa fiera che è molto importante a carattere cinofilo, perché si tratta di un'esposizione internazionale di bellezza. La faccio con questa mano